E' buona la prima. C'è la rottura di Capuzzi mentre cerca di portarsi a condurre C.D. Francis ma gli rientra Cometa LL che va in breve in testa e costringe l'avversario ad accodarsi in seconda posizione molto più discosti gli altri. Hanno preso buon margine di vantaggio i primi due che completano i 200 iniziali in 16 e mezzo. Intanto in terza posizione c'è Kashmir Si mentre all'esterno avanza Castiglione si trascina Cresurisai e TRGF. Più indietro sono Calcutta Lux e Cari Balilla. Intanto i 400 in 30, 600 iniziali dalla testa, percorsi in 45 e 7. Intanto c'è la rottura anche di C.D. Francis e in seconda posizione va così a sfilare Castiglione quando i cavalli hanno completato un giro. In vantaggio quindi Cometa LL nei confronti di Castiglione cerca di avvicinarsi anche Cresurisai e TRGF che rendeva 40 metri. Se n'è andato il primo chilometro nell'ordine dell'1 e 16 e mezzo. Intanto in vantaggio è sempre Cometa LL. Accenna a spostare intanto Castiglione. Seguito nell'azione da Cresurisai e da Calcutta Lux. Cometa per il momento non si lascia avvicinare, mantiene sempre una lunghezza e mezzo di margine. Mentre all'interno Kashmir Si guadagna terreno. 600 al palo con Cometa LL in vantaggio. All'esterno è sempre Castiglione che si trascina a Cresurisai e che ora scatta in terza ruota. L'affondo di Cresurisai a TRGF che in poche battute sorvole il gruppo va su Cometa LL. L'impegna a fondo all'attacco della curva conclusiva. Cometa a replica per il momento a Cresurisai. Mentre cerca di avanzare anche Calcutta Lux. Completamento della curva conclusiva. Ingresso in dirittura d'arrivo. In vantaggio si presenta ancora Cometa con all'esterno Cresurisai a TRGF che insiste e si avvantaggia e nel finale fa valere una classe superiore. Mentre per il secondo posto è Cari Balilla che all'interno buca tutti e piega anche Cometa LL. 2.32 e mezzo sul mio cronometro presi naturalmente dallo start che vanno indubbiamente tarati per Cresurisai a TRGF. Quarto successo a seguire per l'allievo di Rebecca Dami che è in Salchi ed anche i colori all'allievo allenato da Francesco Facci. La vittoria per Cresurisai a TRGF Rebecca Dami e Francesco Facci. La vittoria per Cresurisai a TRGF.